I poveri non possono aspettare. Alla fine della recita dell'Angelo Sudierno, Papa Francesco legge la scritta di uno striscione che campeggia in Piazza San Pietro e lancia un appello alla società affinché ogni famiglia possa avere una casa. Il Pontefice ha invitato tutti al dialogo, senza scontri e violenza, e ha auspicato che questo Natale possa essere un tempo di speranza, di giustizia e di fraternità. Precedentemente Papa Francesco aveva dedicato le sue riflessioni alla figura di San Giuseppe che non si è ostinato a perseguire il suo progetto di vita, non ha permesso che il rancore gli avvelenasse l'animo, ma è stato pronto a mettersi a disposizione della novità che in modo sconcertante gli veniva presentata. Di qui l'invito a prepararsi e a celebrare il Natale contemplando l'esempio di Maria e Giuseppe, Maria la donna piena di grazia che ha avuto il coraggio di affidarsi totalmente alla parola di Dio e Giuseppe l'uomo fedele e giusto che ha preferito credere al Signore invece di ascoltare le voci del dubbio e dell'orgoglio umano.